Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video piccolo tutorial vi spiego come aggiungere Roblox a Discord come è stato attivo andiamo sulle impostazioni di Discord, qua sotto c'è la rutellina gestisci impostazioni utente, privacy attività mostra le attività in corso, quindi da disattivato metti attivato e così facendo uscirà sotto al tuo nome utente, sta giocando a Roblox se vai su giochi registrati, qui c'è scritto Roblox perché una volta aperto uscirà proprio come gioco registrato se in questo caso Roblox è aperto sul tuo pc ma non c'è qua, basta che lo aggiungi qua sopra quindi io adesso apro Roblox Player e come puoi vedere Roblox è uscito ed è anche uscito sotto al mio nome, sta giocando a Roblox meglio se lo tolgo perché sinceramente a Roblox non ci gioco io a Roblox non ci gioco quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial mi raccomando iscriviti e lasciate un like ciao